impressioni per il ladder match money in the bank io attendo molto quello femminile io Sky e Bailey con probabile tradimento Becky Lynch contro Zoe Stark con intromissione di Trish Zelina Vega che ha fatto bene nell'ultimo periodo quindi come vedete questo money in the bank ladder match femminile parto da te Rhapsody si diciamo che ci manca il sesto elemento femminile aiutatemi il sesto match il sesto match il match che decreda la sesta donna non si sa ancora giusto mi è sfuggito che sappia io no me lo sono per manca ancora non hanno annunciato le due contendenti di regola dovrebbe come stanno facendo tre da Raw e tre da Smack dovrebbe la terza dovrebbe venire da Raw vabbè impressioni in generale ripeto su quello femminile sì il Francesco ha ben definito le rivalità interne quindi io con Bailey secondo me punteranno adesso ci manca un tassello non so chi chi andrà a vincere magari per i pronostici c'è tempo però secondo me punteranno parecchio su io però mi volevo invece soffermare più su quello su quello maschile perché secondo me la domanda è prima generica poi Francesco dice che attende molto quello femminile sono molto molto felice della composizione di quello maschile perché praticamente sono tutti tutti i contendenti di cui sono tifoso diciamo perché abbiamo se vince Nakamura mi fa piacere se vince Ricochet mi fa piacere se vince Butch anche se nella versione Butch non mi fa impazzire preferivo Pete Dunne quindi l'altra gimmick L.A. Knight penso che siamo quasi tutti tifosi ma Priest comunque si sta ben comportando e poi il sesto è Santos che personalmente apprezzo quindi come casco 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 bene per il mone maschile aspetto molto ma guarda come località abbiamo l'Inghilterra quindi Pete Dunne è del luogo però ci voglio pensare ancora un po' per il pronostico ecco anche qui mi tengo però sono molto felice della composizione di quello maschile aspettiamo il il completamento del puzzle per quanto riguarda quello femminile però mi sta piacendo sì approvato Emma su quello femminile io ho curiosità sì l'unica che posso avere è quella fra io Sky e Bailey mentre non ne ho tanta per le vicende che riguardano Becky Lynch onestamente è una faida che non mi ha preso e sono il primo a dire che l'arrivo tardivo correttivo volutamente tale di Zoe Stark abbia sistemato un po' l'abbia resa un po' più digeribile come quando prendi una pillola e dici vabbè è una pillola però sa di fragola capito sai che non è un gran piacere però ti aromatizzano lo sciroppo e quindi lo prendi comunque la curiosità ce l'ho per Io Sky e Bailey come pay per view mi mette hype in generale però sui match femminili sì oltre quello io non vedo altro Zelina sì mi sta simpatica anche quando era cattiva però non ci ho pensato minimamente a lei devo essere devo essere sincero ma io invece sono molto più interessato a a Becky contro Zoe e Zoe Stark io Sky e Bailey purtroppo dall'infortunio di Dakota si perde molto da quello che era il senso della damage control cioè adesso sono due cosa fanno litigano con la terza che è fuori boh lì per me metteranno molto in ghiacciaia la cosa cioè adesso le faranno combattere di coppia le faranno come combattenti di coppia e poi quando ritornerà magari da Kotakai allora riprenderanno quella cosa lì dello split però non credo che lo cavalcheranno molto al momento secondo me Becky contro Zoe Stark io sono stato uno dei pochi a promuovere il match tra Becky e Trish di Night of Champions quindi il mio interesse va va su loro due bisogna vedere anche chi è la sesta che dovrebbe essere di Ro vediamo dove dove vanno a finire magari si inserisce Trish proprio magari la sesta potrebbe essere Trish o un altro un nome che aiuta Becky se ci vuole rimanere in quella rivalità lì potrebbe essere Lita non vorrei che fosse Lita però potrebbero infilarci anche lei ecco Zelina Zelina io spero che ci puntino un pochettino di più perché secondo me è molto sottovalutata può fare delle belle cose se è aiutata non da diventare una top ma comunque comunque spero che possa avere il suo bello il suo spazio Zelina Vega ecco come dice il Bardo Michele Posa che ricordiamo siamo sul suo spazio Twitch e vi invitiamo tutti quanti a cliccare quel cuoricino che vedete sotto questa questa impressione della live seguitelo perché recuperate anche i contenuti vecchi ce n'è davvero tanto come ci dice il Bardo uno degli handicap fra virgolette di Zelina è la statura che è piuttosto ridotta rispetto a quella delle altre però questo tipo di difetto se possiamo dirlo io lo vedo anche in Alexa Bliss ad esempio che è qualche centimetro su ma sempre piccolina e ad esempio io neanche Alexa Bliss ho mai percepito come una contendente credibile lasciatemi passare pure questo non lo dico con cattiverio chissà che cosa però in tutte le imprese che ha messo in scena non ho mai avuto quella quella vibrazione quella cosa di guardare la tv con caspita c'è c'è la Bliss vediamo che fa no sempre guardato in maniera molto passiva distratta ecco quando lottano quelle due atlete io mi accorgo che il wrestling è finto già quando c'è Charlotte io un attimo me ne dimentico sarà la stazza sarà il carisma saranno tante cose comunque un manierismo da ring che ce l'hai ed è innato inspiegabile però insomma Zelina per quanto mi sia simpatica lo ripeto insomma pure che le fanno fare qualcosa di buono alla fine immaginate che fa un match contro Charlotte o contro Rhea Ripley eh insomma è dura sì sì grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti